la bambina selina oh è molto tardi andiamo al parco ragazze ok mamma selina sbrigati è ora della nanna ok ragazze ora della nanna ma non vogliamo dormire ok ok allora continuiamo a giocare cambiamoci selina dai ti sei messa il pigiama che hai detto? è ora di andare a letto mettiti il pigiama ok prima togliamo questi e poi rimettiamo i vestiti vestiti, gioielli ora andiamo a letto comincio con te molto bene ora quella coi capelli bianchi è a letto selina non ti sei ancora cambiata muoviti le ho messe a letto quindi ora scelgo un pigiama scegliamolo insieme questo l'ho messo ieri e questo non mi piace oh anche questo non va oh ecco cosa metterò va bene metti quello che vuoi sono pronta oh oh devo sistemare qui dai dai selina dai dai su va bene va bene va bene ora lavati i denti datti una mossa selina dai dai sto spegnendo la luce arsenio che c'è? non ho messo il bebè a nanna ecco sta dormendo ora non così lei ha il suo letto togliamo le scarpe eee togliamo anche i vestiti arsenio la bimba ha il suo pigiama addosso ora cambiamoti 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 mmm questo pigiama non va bene quello è per l'inverno e fa troppo caldo ora oh ecco trovato trovato togliamo le scarpe eee togliamo anche i vestiti arsenio la bimba ha il suo pigiama addosso ora cosa selina? la bimba ha il suo pigiama addosso ah finalmente mettiamoti a letto ecco qui la bimba ha il suo pigiama addosso la bimba ora è a letto dovresti esserlo anche tu ah 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 dai non farlo ah 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 vieni qui ah 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 ok ok ora basta buonanotte selina fratellone cosa? ho sete eeeh va bene, ti porto qualcosa guarda, ecco la tua acqua no, la voglio in una tazza rosa grazie fratellone hai avuto la tua acqua ora buonanotte fratellone che c'è? mi leggi una storia? te ne dico una adesso c'era una volta una bambina che non voleva dormire ah 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 se non fosse andata a letto un mostro l'avrebbe mangiata non mi è piaciuta proprio questa storia va bene, Selina cosa vuoi ora? voglio andare al parco giochi ok, fantastico se vai a dormire ora sognerai un parco giochi ah, bene dici sul serio no ah 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 ah, un parco giochi oh, dolcetti oh, giustre ok, ok Grazie. 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 Dorme finalmente.